Grazie a tutti. 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 Un altro uovo di Pasqua. 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 tutte qui sono le sue facciamo lo spacca lui damma vieni qua spacca prima questo grano fammi vedere cosa c'hai tu nel tuo vieni vieni che vediamo i tuoi dai poi si lascia lì a lui vieni sediti sulla tua sedia sulla tua sedia bravo bravo mettiamogli vicino il cocco che lo apre vai vai lascialo lascialo domi vai a spaccare il cocco dai no domi che lo deve spaccare domi vediamo domi che spacca il cocco e prende la sorpresa dai forse lo spacca il due spacca l'uovo dai spacca il due qua dai eh ma che tu è il drago vedi vedi aprilo aprilo ma che tu è il drago aprilo dai vediamo il drago vediamo vediamo bello bello un uovo con dentro il draghetto vogliamo vedere il draghetto bello apri apri ma hai visto anche tu aspetta eh ora questo il scavio io ho accettato il due quello il tre guarda 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 vediamo vediamo questo cos'è anche io la gomma la gomma per cancellare la matita no ma il suo io l'avevo già aperto d'accordo daglielo qui dai no spatta la gallina vediamo cosa c'è dentro no la gallina non c'è niente dentro mordila la gallina mordila mordila un morso grande buona buona pasqua amore mio ancora dai tutto per te tutto per te ma è questo qui è il nido lo mettiamo qua al nido ecco qui ne ho cocco piccoline gliele diamo lui no sono tutte però io me ne devo prendere uno queste sono due io me ne devo prendere uno guarda qui cosa c'è le cocco le uova le vuoi tutte tutte tue il draghetto senza le ali poverino ecco qua quando la gallina ok vai gioca con i tuoi giochini adesso dai ma si è appena iniziata dai le tue cocco ci sono prendile chiede chiede non è che bello qui ce n'è un altro che cos'è e apriglieli scusa come fa da solo vediamo quanti pacchetti la borsetta non attaccargliela che sta svanendo in bocca questi piccoli saltali ecco così quella lì basta bella una bambolina la gommina di dodò che era in giro qui è salita dove è la tua gomma ah ce l'hai in mano ci hai fregati pesce da aprire qui ci sono quello per mettere dentro il draghetto e la giraffa piccolina allora vai tutta roba tua questa vai vaci a giocare sul divano e te la mangi anche un pezzetto di cioccolato dodò scendi dai scendi amore buona pasqua ah vissa di no vediamo primo uovo rosso rosso vediamo un secondo erica sta facendo la gara a riuscire ad aprire un uomo senza spaccarlo questo si è riuscito vediamo 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 cos'è oh mio dio le palline piccoline sapendo che poi vanno a finire in mano a bambini piccoli bellissimo vabbè e due regalino due regalino uno e questa è la più buona no 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 non si apriva così no hai rovinato il fiocco capita non c'è regalo qua dentro te l'ho già detto no la rompi povera gallina intanto alla fine che fanno tutte a pasqua quindi prendi il fiocco sotto e lasciare lì quelli tiralo fuori questo si alza e questo è strato alla perfezione e ti dobbiamo toccare mangio mangio cioccolato mangio cioccolato poi il 9 ci vediamo dal dentista chà chà